Nel nostro DNA essere trasparenti, nel nostro DNA cercare di far conoscere questo impianto a tutti coloro che lo desiderano. Inoltre, zero spreco significa ridurre i consumi. Ridurre i consumi in un momento come questo è chiaro che è fondamentale. Si deve come sempre partire dalle generazioni più giovani, cioè dal futuro. I piccoli studenti di Arezzo tornano a visitare l'impianto di San Zeno. Le due giornate dedicate al progetto Zero Spreco tornano all'impianto di AISA dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. Oltre 400 i bambini e i ragazzi, dalla scuola dell'infanzia alla primaria alle scuole medie, che saranno impegnati in attività e giochi. Ripartiremo anche con il progetto della gara dei cervelli che facciamo prima del Covid e abbiamo intenzione di ripartire. Ripartiamo con tutte le nostre iniziative. Oggi è il primo di una o due giorni dedicata ai ragazzi. Oggi ci sono i più piccoli, domani ci sono quelli un po' più grandi, delle medie. Poi andremo il pomeriggio di domani a quelli ragazzi un po' parecchio più grandi perché andremo a fare dei convegni per ingegneri e per medici. Di conseguenza si passa a categoria. Il nostro interesse è quello di far conoscere l'impianto perché l'impianto è di tutti. L'impianto è un impianto pubblico al servizio della collettività e l'impianto è di tutti, visto che i proprietari sono i comuni di una parte della provincia di Arezzo. Arezzo in particolare e tutti i comuni della Val di Chiana e del Basso Casentino. Essere arrivati qui e aver visto dentro l'impianto la gran quantità di rifiuti che viene movimentata e viene trattata ha suscitato un'esclamazione in uno dei bambini che ha detto che meraviglia. Si è veramente sorpreso della gran quantità di materiale che va a costituire il nostro rifiuto. Si lavora proprio sulle consapevolezze anche proprio esperienziali dei bambini di questa età per capire che i rifiuti possono diventare un problema ma possono diventare anche una risorsa per una società avanzata. Un impianto, quello di San Zeno, che sta facendo di tutto per essere strategico in tema di transizione ecologica. Il verde settante è partito a dicembre dell'anno scorso, è già a regime, è stato un anno, abbiamo dato una grossa mano a tutta la collettività da quel punto di vista. Le raccolte differenziate si possono fare, sicuramente vi sono gli impianti, ma prima si devono fare gli impianti e poi le raccolte differenziate, non l'opposto. Ad Arezzo è stato fatto così, l'impianto per l'organico ormai è pronto, è attivo da un anno, ha dato la possibilità a tutti i comuni della provincia di poter fare tutte le raccolte differenziate che hanno voluto relativamente all'organico. Passa fatto quello, stiamo realizzando l'impianto di gestione anaerobica per la produzione di biometano. Dal prossimo anno staremos in grado di dare 100.000 pieni di un'auto di piccola cilindrata con metano che produciamo grazie all'organico che deve essere raccolto in maniera differenziata perché tutto parte da una buona raccolta differenziata. E poi partiremo ovviamente con l'efficientamento della linea di recupero energetico che è già iniziato e che finirà fra circa un anno. Ma è già stato iniziato perché sono processi lunghi e le prime attività relativamente al trattamento dei gas di combustione sono già state realizzate.